Dalla prospettiva teologica si possono dare tre fondamenti per dimostrare che il non nato è una persona dal concepimento l'analogia con l'incarnazione l'analogia con l'immacolata concezione e la legge sul battesimo consideriamone uno alla volta l'analogia con l'incarnazione l'analogia con l'incarnazione non è un'analogia tra l'inizio della personalità umana e l'inizio della personalità di nostro signore gesù cristo perché la sua personalità non è una personalità umana bensì una personalità divina e quindi esiste fuori dal tempo piuttosto essa è un'analogia tra l'inizio della personalità umana e il tempo dell'assunzione dell'umana natura da parte del verbo di dio la chiesa insegna che l'incarnazione ebbe luogo al momento del concepimento in questo momento il suo corpo e la sua anima vennero all'esistenza in questo momento il suo corpo e la sua anima la sua natura umana furono assunti dal verbo di dio furono ipostaticamente uniti al verbo di dio il credo apostolico confessa figlio meius unicum dominum nostrum qui conceptus est del spirito sancto il suo unico figlio nostro signore che fu concepito di spirito santo san cirillo di alessandria insegna il dio logos dal momento del concepimento si unì con il tempio assunto dalla beata vergine l'analogia con l'immacolata concezione analogia tra l'inizio della personalità umana in generale e l'inizio della personalità della beata vergine in particolare la definizione dell'immacolata concezione della beata vergine maria promulgata al beato più nono nella bolla ineffabilis deus dell'otto dicembre 1854 dichiara che la beatissima vergine maria dal primo momento del suo concepimento fu preservata immacolata da ogni macchia del peccato originale ora in quanto l'immunità al peccato originale può essere ascritta logicamente solo a una persona si può concludere che la personalità della beata vergine maria esiste fin dal concepimento il canone 871 del diritto canonico afferma che se i feti abortiti sono sopravvissuti devono essere battezzati se questo è possibile il termine feto è qui usato non nel suo senso tecnico a significare l'essere umano non nato nel periodo tra l'inizio dell'ottava settimana dal concepimento fino alla nascita in istinzione all'essere umano non nato nel periodo del concepimento all'inizio dell'ottava settimana cioè l'embrione ma in un senso generico a significare l'essere umano non nato simpliciter ora poiché il solo soggetto del battesimo è la persona si può concludere che la persona esiste fin dal concepimento un'ottava settimana Grazie.